firmino firmino a land c'ho a guero che in del tottenham per me sono molto ma molto ma molto più forti di lui che è un animale fisico punto ma io ne posso mettere tantissimi davanti a lukaku poi mi dici in serie a è devastante fa la differenza sì questo è fuori discussione sta facendo alla grande alla grandissima però se lui dice tra i cinque bovo dice sì è il più forte addirittura al mondo bovo davanti firmino firmino a land cio a guero che in del tottenham per me sono molto ma molto ma molto più forti di lui che è un animale fisico punto ma io ne posso mettere tantissimi davanti a lukaku poi mi dici in serie a è devastante fa la differenza sì questo è fuori discussione sta facendo alla grande alla grandissima però se lui dice tra i cinque bovo dice sì è il è più forte addirittura al mondo bovo 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 bovo